a bitonto tv cristian montanaro autore del libro best seller l'incubo rincorrente presentato a rigenera nell'ambito della rassegna di incontri letterari park and read giovedì 23 marzo cristian l'incubo rincorrente un titolo che suona un po come un gioco di parole sì innanzitutto buonasera tutti ovviamente e per la vita ti rincorre in questo caso l'incubi di solito ricorrono nella storia che riguarda il protagonista jack forbes c'è una certa vicenda che lo rincorre per cui in questo caso il suo incubo da ricorrente diventa rincorrente lo perseguita tu sei oltre che un giornalista un avvocato in che modo riesce a conciliare il tuo lavoro con la scrittura ma sai io penso che aiuti a rendere di più sul lavoro perché il lavoro avvocato è un lavoro chiaramente che ti condiziona anche a livello proprio di stress per cui per me questa è un'attività molto terapeutica scrivere soprattutto di notte quando il lavoro lo consente aiuta secondo me eliminare le tossine poi la mattina a farti riprendere con più voglia anche perché spesso le storie sono come in questo caso di vita vissuta e anche professionale tra l'altro questo romanzo può essere definito psicologico in un certo senso è legato anche alla vita del tuo lavoro che in qualche modo è presente all'interno del libro sì io lo chiamo un libro psicologico giuridico non è propriamente un legal thriller perché in realtà c'è questa connotazione giuridica che è molto forte ma che è congiunta la dimensione psicologica per cui sono fondamentalmente un gatto che si morde la coda dove alla fine di questa coda che è molto lunga ci sono vari aspetti che sono concatenati il titolo best seller tra l'altro ti ha portato in un certo senso fortuna perché diciamo si è stato insegnato di una menzione ad un premio abbastanza importante internazionale ho avuto questa fortuna di ricevere questa menzione ringrazio ancora i giurati in tal senso è chiaro era un titolo rischioso perché poteva sembrare altro invece si giocava fondamentalmente perché poi il libro di cui si parla nell'opera si chiama proprio così quindi fondamentalmente faceva riferimento e doveva rimarcare l'importanza della storia tu oltre ad essere autore di libri se anche regista di cortometraggi infatti hai recitato hai girato un cortometraggio in cui recita anche alberto rubini cosa nasce prima la passione per la scrittura oppure per la regia di cortometraggi io chiaramente compatibilmente con gli impegni ho sempre avuto questa visione molto ancestrale che mi porta a scrivere io mi considero prevalentemente un autore poi scrittore regista sono delle dinamazioni e come un albero che ha vari rami e per cui i rami alla fine tendono secondo me sempre all'albero però prevalentemente io mi considero un autore quindi non scelgo tanto ma mi lascio scegliere dalla storia il tuo progetto futuro è scrivere un libro o girare un cortometraggio i progetti futuri sarebbe anche quello di riposarsi però no è sicuramente qualcos'altro sta bollendo in pentola appena la pentola sarà pronta io se avrete piacere informerò bitonto tv offrirò una ciotola certo senz'altro allora ti aspettiamo in bocca al lupo grazie